Oh cara moglie, stasera ti prego, dì a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, ho ricevuto la liquidazione, mi hanno licenziato senza pietà. E la ragione è perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro, della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà, se invece vince è perché i crumini gli dà la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, noi si chiamavano i compagni alla lotta, ma col padrone facendo una mossa, un dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovevi vederli, venire avanti, curvati e piegati, e noi gridare crumiri venduti, ma quelli dritti senza fiatar. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro, là sul portone, grideva allegro il porco padrone, gli amaledetti senza pietà. Oh cara moglie, primo sbagliato, odia mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Che ha da capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà.